In Commissione Ambiente, Territori e Lavori Pubblici della Camera, su richiesta dell'Onorevole Dario Iaia, si torna a discutere della Bradanico-Salentina. I lavori, secondo il direttore Anas, dovrebbero terminare entro fine anno. Giornata internazionale contro l'annegamento. Oggi a Leporano, sulla spiaggia di Saturo, le raccomandazioni di Polizia 118, laboratori di primo soccorso anche in mare con i bambini e per le persone diversamente abili. I giocatori del Taranto FC in ritiro hanno visitato la Basilica della Madonna a Vigiano. G di Taranto, su Antenna Sud, ben trovati. Ex Silva, Urso, si avvia ad una soluzione la vicenda con un nuovo piano industriale. Queste le sue dichiarazioni rese in mattinata. Vediamo il punto della situazione con il nostro corrispondente a Roma, Francesco Manigrasso. I commissari di Aceglieri ed Italia sono stati chiari. Il vertice di ieri a Chigi, chiesto dalle sigle sindacali per conoscere il piano industriale, ma soprattutto le prospettive di vendita dell'impianto siderurgico Tarantino. Il bando di gara per l'accessione dell'azienda, quello, oltre che noi non conosciamo pienamente i dettagli per cui ci verrà illustrato e chiederemo che ci venga illustrato nei prossimi giorni, in realtà noi non sappiamo quando si realizzerà fattivamente la vendita, perché oggi l'azienda non così com'è, non è nelle condizioni. La cassa integrazione è però il nodo cruciale. La discussione parte da 4.700 lavoratori e non più 5.200 come inizialmente previsto. L'obiettivo per i sindacati è ridurre ulteriormente il numero, facendo però ripartire i tre altoforni. La previsione per questa ripartenza sarebbe entro marzo 2026. Il reale obiettivo per avere cassa integrazione zero sono sempre i 6 milioni di tonnellate e anche la possibilità di portare bramme dall'esterno qualora il tonnellaggio non fosse prodotto all'interno. Abbiamo già avuto esperienze in cui acquistando bramme abbiamo fatto partire gli impianti di laminazione e qualcosa che possiamo provare a ripercorrere. È evidente che bisogna abbassare i numeri, soprattutto perché per la ripartenza necessitano interventi manutentivi e quindi di lavoratori che vengono impegnati nelle attività. Dobbiamo legare la questione della ripartenza rispetto alle mortizzazioni sociali e determinare il fatto che comunque a completamento di tutti gli interventi non ci sia unione superistrutturale. Nell'accordo da stipulare anche l'indicazione, anche però l'obiettivo industriale finale dei commissari è proprio quello che ci hanno indicato ieri, che la possibilità di far ripartire tre AFO significa garantire la saturazione degli organici. Il bilancio è una serie di investimenti oggi al centro del Consiglio Provinciale, probabilmente l'ultima seduta prima della pausa estiva. Si sta lavorando tanto in un clima di ritrovata serenità, dice il Presidente della provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, ultimo Consiglio Provinciale di questa estate. Molto contento perché chiudiamo una fase finanziaria prima di approcciare il nuovo anno contabile, lo facciamo votando all'unanimità, in sostanza in Consiglio Provinciale un assestamento finanziario e la salvaguarda gli equilibri di bilancio per il 2024 senza sbavature, consapevoli che lì dentro ci sono tutti, desiderata che i consiglieri provinciali, tutte le forze politiche per quello che è un ente di secondo livello, lo voglio ricordare, hanno portato avanti in questi primi mesi di nuova consigliatura a favore delle nostre comunità. Tanti interventi sulla viabilità, sulle scuole, sull'ambiente, impegnato tutto l'avanzo di bilancio non vincolato già presente nell'ente, sia per la spesa in conto capitale che per la spesa corrente con il rinnovo di servizi diversi. È un bel momento, dice il Presidente della provincia, l'ente corre ed è in salute. L'ente corre, l'ente è in salute e devo dire che con grande senso di responsabilità, grande intelligenza verso le proprie comunità, tutti i consiglieri provinciali stanno facendo la loro parte. A Lido Taranto, dopo le proteste dei cittadini e anche i nostri servizi televisivi, prosegue la polizia delle spiagge da parte di Chimambiente in attesa dei lavori di riqualificazione per un importo totale di 4 milioni di euro. Vediamo intanto com'è andata questa mattina. Prosegue a Lido Taranto l'opera di pulizia straordinaria da parte degli operatori di Chimambiente per rimuovere l'incredibile quantità di rifiuti depositati nell'area. Negli ultimi anni è stata una vera e propria discarica a cielo aperto che abbiamo segnalato con numerosi servizi nei telegiornali di Antenna Sud. Ora finalmente un primo passo in attesa del progetto di rinaturalizzazione. Il Comune ha ottenuto 4 milioni di euro con un bando MIT. A settembre sarà affidata la gara di affidamento progettazione lavori. Da gennaio 2025 dovrebbero iniziare le opere con la durata prevista di un anno, la rimozione delle strutture metalliche arrugginite dei depositi sulla spiaggia. Nel frattempo il Comune garantirà una sorveglianza più stretta della zona e la delimitazione delle aree pericolose. Un nuovo sopralluogo è stato effettuato dagli assessori Fornaro, Ciraccio e Mazzariello, dalla consigliera comunale Bosniacu, dalla presidente di Chimambiente Mancarelli alla presenza della polizia locale. Non è che noi ci siamo disinteressati di quest'area e che come vedete quest'area richiede una polizia quasi giornaliera. Ci sono degli edifici completamente abbandonati che molto spesso vengono anche presi d'assalto da extracomunitari. Perché oggi invece noi siamo qua? Perché il progetto di riqualificazione di quest'area sta cominciando a prendere forma. L'assessore Ruggero, il mio collega, si occupa proprio di questa riqualificazione. Entro agosto chiuderanno la conferenza di servizi. È un intervento poderoso. È stato necessario mettere prima in sicurezza, grazie anche alla polizia municipale, questi ambienti. Dopodiché oggi abbiamo tonnellate e tonnellate di rifiuti con l'ausilio di oltre dieci uomini e quattro mezzi stiamo ripulendo del tutto la situazione. I frati francescani dovranno lasciare la parrocchia al San Massimiliano Colbe nel quartiere Paolo VI di Taranto. I parrocchiani hanno protestato. San Francesco non l'avrebbe mai permesso. E la frase su un lenzuolo bianco che accompagna una comunità scesa in strada davanti la parrocchia di San Massimiliano Colbe nel quartiere Paolo VI a Taranto, dopo aver appreso la notizia che i padri francescani lasceranno quella sede. I parrocchiani fierici mostrano le immagini di quello che prima era il niente in quel quartiere difficile. Poi la costruzione della chiesa, divenuta presidio di legalità, luogo di aggregazione sociale di bimbi, giovani, tolti dalla strada e invitati a usare quegli spazi, di tutti, a prendere un pallone e organizzare tornei di calcetto nel campetto. La fede è anche questo, mettersi al servizio della propria gente, la fede come motore di gesti quotidiani e poi il servizio Caritas. Tutto si condivide sull'esempio proprio di San Francesco e dell'ordine che porta il suo nome. È una realtà sociale alquanto particolare, difficile, che però in tutti questi anni, con la presenza dei frati francescani, si è creata una coesione sociale anche nella fede. Tra l'altro un sentimento autonomo. Padre Salvatore non è sorpreso dell'affetto dei suoi parrocchiani. Non mi sorprende il fatto che la gente manifesti tutta la vicinanza ai frati e il bene alla chiesa. L'arcivesco è molto dispiaciuto, purtroppo non può nulla di fronte ad una decisione presa. E che riguardano i frati perché diminuiscono sempre di più e c'è sempre meno possibilità di operare, soprattutto in zone come queste, così difficili. Nel quartiere Polo Sesto a Taranto c'è del bello. Tra i parrocchiani che esprimono il proprio affetto ai francescani, c'è tutto ciò che è stato costruito. Ci sono le storie di vita vera, di un quartiere resiliente che non vuol fare un passo indietro. E questa mattina a scendere in strada sono stati anche i lavoratori del servizio di pulizia asili del Comune di Taranto. Siamo qui per far capire che anche noi abbiamo bisogno di lavorare 12 mesi all'anno. Mentre c'è qualcuno che fa la guerra per non lavorare a luglio, noi dobbiamo fare la guerra per lavorare a luglio ed agosto. Il Comune di Taranto ha deciso di sospendere tutte le attività svolte all'interno degli asili comunali dal 1 luglio al 31 agosto a causa di lavori di manutenzione. Non si placano le roventi problematiche del mondo del lavoro in piena estate. Alla base della protesta l'ha paventata indisponibilità dell'Amministrazione Comunale di incrementare nel prossimo bando di gara le risorse e le ore di lavoro da destinare ai servizi di pulizia e supporto educativo agli asili nido comunali di Taranto. Abbiamo un part time di 3 ore e 30 al giorno. Ci avevano praticamente detto che avremmo da due anni a questa parte lavorato 15 giorni a luglio e 15 ad agosto. Non abbiamo nemmeno quella miseria dei 15 giorni. Non si può dopo 30 anni di lavoro essere ancora in queste condizioni. Ancora attenzione e tutto ciò ha provocato un presidio organizzato dall'Unione Sindacale di Base che si è tenuto dinanzi a Palazzo di Città. Tutto questo nella prospettiva di una internalizzazione di questo che è un servizio a carattere continuativo e assolutamente indispensabile per la comunità ionica. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione dell'annegamento e sulle spiagge di Saturo c'è stato un importante appuntamento con raccomandazioni, laboratori di primo soccorso anche in mare con bambini e con un focus per i diversamente abili. Una giornata dedicata alla prevenzione degli annegamenti. La sicurezza in mare al centro dell'iniziativa organizzata a Marina di Leporano in località Saturo dall'amministrazione comunale leporanese alla presenza tra gli altri del questore di Taranto Massimo Gambino del comandante della guardia costiera Ionic a Rosario Meo il sindaco di Leporano Vincenzo Damiano e responsabili di diverse associazioni. C'è stata anche la dimostrazione di salvamento in mare con l'obiettivo di fronteggiare gli annegamenti ma anche gli interventi in caso di malori di primo soccorso. Siamo qui anche per testimoniare quella che è la sinergia con le forze di polizia locali con la Capitaneria di Porto, come controllo del territorio in generale quindi come sicurezza, sicurezza a mare che noi la garantiamo con il supporto ovviamente dei colleghi della Capitaneria e della Guardia di Finanza di Mare. si inserisce nel più ampio quadro e ventaglio di quello che è il riconoscimento ottenuto da questa bellissima località della bandiera blu che è sintomo sicuramente di una grossa sensibilità ambientale del territorio stesso ma anche di un'attenzione spiccata nel territorio anche a garantire quelli che sono i livelli di fruibilità e insicurezza del territorio. L'annegamento è un evento tragico che purtroppo in Italia colpisce circa 400 persone all'anno di questi la maggior parte sono bambini quindi vogliamo lanciare questo messaggio che poi è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità chiunque può annegare nessuno dovrebbe farlo. Abbiamo voluto considerare proprio questa opportunità con la FEI di organizzare questo evento per la bandiera blu sono 236 comuni tutti insieme nello stesso momento e nella stessa giornata per parlare della sicurezza in mare. Giochi del Mediterraneo e la Corte dei Conti ha evidenziato che tra i segnali positivi ci sono l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Commissario per la realizzazione di alcune opere, la stipula di convenzioni con società partecipate e vari soggetti attuatori e la previsione di una piattaforma dedicata al controllo dell'avanzamento dei lavori. L'analisi della magistratura contabile si è concentrata sulla tardiva approvazione del cronoprogramma delle opere infrastrutturali già superato e sull'aumento dei costi previsti da 150 a 167 milioni di euro necessarie alcune modifiche progettuali e la loro eventuale incidenza sui tempi già stretti. La magistratura ha sottolineato la necessità che il Commissario assicuri all'aggiornamento rispetto dei cronoprogrammi. La Corte ha specificato che tali affidamenti potranno essere effettuati senza pubblicazione del bando, solo se rispetteranno i presupposti indicati dall'Avvocatura dello Stato. E adesso un incidente stradale. Un lieve tamponamento si è verificato questa mattina intorno alle 8 in via Magnaghi a Taranto. Un'auto e un'ambulanza con a bordo un paziente sono entrati in collisione nei pressi dell'incrocio di via Acton a poche centinaia di metri dal comando di polizia locale. I vigili sono intervenuti sul posto da chiarire la dinamica del sinistro. Non si registrano feriti. Non migliora la situazione sulla strada provinciale 48 che collega Statte al rione Tamburi di Taranto. Buche, voragini, sporcizia e asfalto dissestato. La situazione della strada provinciale 48 che collega Statte a rione Tamburi di Taranto non accenna a migliorare. A farsi portavoce dei problemi stavolta è il consigliere comunale di Statte, Emanuele Cristofaro, assieme ai suoi colleghi del gruppo Uniti per Statte. Come gruppo consigliare di Uniti per Statte, insieme ai consiglieri comunali appunto Devor Artusio e Valentina Semeraro ed il sottoscritto, ovviamente abbiamo posto all'attenzione degli organi competenti la situazione della strada provinciale 48. Intanto c'è da dire che proprio qualche minuto fa l'azienda incaricata probabilmente dalla provincia è venuta qui sul posto per liberare da degli ossacoli mobili che erano presenti ormai da 3-4 mesi la carreggiata. Ma questo non cambia l'ordine delle cose e la situazione attuale che vede una situazione di degrado totale oltre che una carenza assoluta di infrastrutture che possano salvaguardare l'incolumità pubblica. È un tratto di strada che veramente è in condizioni disastrose a partire da rione Tamburi fino alle porte di Statte. Una questione certamente di sicurezza ma anche di decoro urbano. Assolutamente, è inutile ricordare agli addetti ai lavori che qui sorge uno di quelli che sono stati i monumenti più importanti dell'età romana come l'acquedotto del Triglio. Questo non significa però che questa arteria debba essere poco tenuta in considerazione come invece altre strade provinciali che nel corso degli anni hanno subito dei veri e propri interventi migliorativi sia dal punto di vista infrastrutturale sia dal punto di vista della salvaguardia della viabilità. A moto ad oltre 3 milioni di euro l'evasione fiscale accertata a Taranto dalla Guardia di Finanza in relazione all'illecito utilizzo delle slot machine un volume complessivo di giocate in un circolo ricreativo di 13 milioni di euro nel corso dei controlli sequestrati 12 apparecchi e poi un flash anche da Torre Colimeno una pescheria è stata sequestrata preventivamente dalla Polizia di Stato, mancavano una serie di documenti e anche pesce non correttamente etichettato per questo la segnalazione per il presunto reato di commercio di sostanze nocive. A seguire il Tg di Brindi. Altri due fermi sono scattate all'alba di oggi a San Pietro Vernotico nell'inchiesta che ha coinvolto il clan che fa capo a Tarantino immanente due ragazzi all'epoca dei fatti i minorenni intanto sono tre gli indagati nell'inchiesta per la morte dell'operaio Arif. L'affondo del PD di Brindisi senza eventi estivi l'amministrazione comunale priva i commerciati e i cittadini di un'occasione di crescita. La città si sveglia sempre più turistica stamane nel porto interno presso la banchina Montecatini ha traccato lo splendido veliero extra lusso da Crocera Sea Cloud Cruises con a bordo 55 passeggeri proviene da Corfu. Ben ritrovati con il nostro telegiornale di Brindi si altri due fermi sono scattati all'alba di oggi a San Pietro Vernotico nell'inchiesta che ha coinvolto il clan che fa capo a Tarantino immanente due ragazzi che all'epoca dei fatti erano minorenni. Questa volta è stato il Tribunale dei minori di Lecce a disporre il fermo di altri due ragazzi che all'epoca dei fatti non avevano compiuto 18 anni nell'ambito dell'inchiesta sul clan mafioso comandato dal detenuto Cristian Tarantino e che negli ultimi anni avrebbe compiuto attentati e aggressioni in particolare ai danni della nuova famiglia della ex moglie. I due sono accusati di associazione mafiosa armata attentati, lesioni personali, tentate, estorsioni. Dalle indagini è emerso che i due ragazzi abbiano svolto diversi ruoli soprattutto di manovalanza eseguendo una serie di attentati sia con l'utilizzo di esplosivi che incendiari e uno di loro avrebbe partecipato al pestaggio avvenuto durante la festa patronale di San Pietro Vernotico del fratello dell'ex moglie di Tarantino. Intanto si sono svolte nel carcere di Diappia le udienze di convalida dei quattro fermi effettuati dai carabinieri lunedì mattina a San Pietro Vernotico è rimasto in silenzio Omar De Simone 29 anni considerato il luogo tenente di Tarantino fuori dal carcere l'uomo in grado di consigliare il boss e di assumere anche decisioni autonome in silenzio anche Carmine Fellini hanno respinto le accuse invece Antonio De Michele e Daniele Poso i fermi sono stati convalidati dal GIP di Brindisi che ha dichiarato però la propria incompetenza funzionale trattandosi di un'inchiesta della DDA entro 20 giorni la procura antimafia dovrà chiedere l'emissione di nuove misure cautelari al GIP di Lecce il prefetto di Brindisi oggi in visita a San Vito dei Normanni tappa Palazzo di Città poi nella chiesa di San Giovanni nel castello Normanno Svevo e nella pasticceria sociale Virgola smaltite le fatiche del G7 il prefetto di Brindisi Luigi Carnevale va in visita a San Vito dei Normanni su invito della sindaco Silvana Enrico per una conoscenza più approfondita del territorio sotto il profilo politico culturale e sociale per cui per me è una splendida occasione anche di tuffarmi in questa realtà attraverso appunto l'accoglienza del Consiglio Comunale in questa sala che considero essere un tempio della democrazia e quindi di poter anche portare loro il mio saluto il mio ringraziamento e il mio augurio per un futuro ricco di successi e dei successi per la crescita diciamo delle donne e degli uomini di questa comunità La presenza del prefetto significa che possiamo essere sicuri ma soprattutto possiamo essere collaborativi perché riusciamo a risolvere quelli che sono i tanti problemi che un sindaco ogni giorno deve affrontare però è sicuro che c'è qualcuno che vigila anche ma quella vigilanza buona quella vigilanza importante quella vigilanza fiduciosa che ci dà la forza di impegnarci sempre di più non solo nella politica ma anche come abbiamo presentato oggi nella società civile Stanza del fumore Fumare Stanza fumare dove i signori facevano i uomini 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 Tre funzionari dell'ARIF sono indagati nell'inchiesta della procura di Brindisi per la morte di Mario Rutiglio l'operaio 66enne che è avvenuta sabato scorso Ci sono tre indagati per la morte di Mario Rutiglio l'operaio stunese di 66 anni dipendente dell'ARIF l'agenzia regionale per le attività irrigue e forestali travolto da un ulivo secolare durante le operazioni di spegnimento di un incendio nelle campagne tra Ceglie Messapica e San Michele Salentino gli indagati per omicidio colposo in violazione delle norme per la prevenzione sui luoghi di lavoro sono tre funzionari che operano nelle strutture tecniche e dirigenziali dell'ARIF si tratta di un atto dovuto per consentire l'eventuale nomina di loro consulenti per l'esame otoptico che è stato affidato al medico legale Domenico Urso e che si svolgerà nell'obitorio del cimitero di Ostuni proseguono intanto gli accertamenti da parte del personale dello Spesal e dei carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni e della stazione di Ceglie Messapica per ricostruire quanto avvenuto fondamentali sono considerate le testimonianze dei colleghi dell'uomo che insieme a lui erano a supporto dei vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento dell'incendio nell'Uliveto Rotiglio era a pochi mesi dalla pensione e adesso gli aggiornamenti in merito alla giunta comunale di Brindisi potrebbero davvero essere questi gli ultimi giorni prima del completamento della nuova giunta al comune di Brindisi con la lunga attesa per i nominativi che dovrebbero arrivare nelle prossime ore da parte del gruppo di Fratelli d'Italia i due assessori attualmente assenti per il completamento della nuova giunta i consiglieri comunali del partito di Giorgia Meloni si sarebbero infatti incontrati nella serata di mercoledì con il segretario provinciale Luigi Caroli per cercare una sintesi tra le varie posizioni per i singoli consiglieri e una posizione unitaria da presentare al primo cittadino i due nominativi che dovrebbero essere presentati entro la giornata di sabato dovrebbero essere quello dell'assessore uscente Pisanelli e un nome femminile che dovrà essere individuato esterno al partito da Luigi Caroli stesso che ha avuto il mandato da parte dei consiglieri per trovare una figura professionale che possa essere presentata al sindaco Marchionna con una consultazione anche tra le figure più esponenti regionali del partito di Fratelli d'Italia come l'onorevole Gemmato e il ministro Fitto una discussione che potrebbe quindi essere conclusa con l'incontro di mercoledì sera e con il primo cittadino che attende adesso una comunicazione ufficiale e un appuntamento che potrebbe arrivare entro la giornata di sabato con la consegna di questi ultimi due nominativi e quindi di conseguenza la divisione delle deleghe se i tempi si dovessero comunque prolungare non è escluso che il primo cittadino possa comunque decidere di assegnarle già ai sette assessori presenti in attesa poi di completare la squadra di governo La città si sveglia sempre più turistica oggi nel porto interno nella banchina Monte Catini ha traccato lo splendido veniero extra lusso da crociera Sea Cloud Cruises con a bordo 55 passeggeri proviene da Corfu il porto di Brindisi continua a ospitare navi da crociera di tutti i tipi e segmenti dopo l'arrivo della lussuosa Explora ha traccato presso la banchina Monte Catini lo splendido veliero da crociera Sea Cloud Cruises con a bordo 55 passeggeri assistiti da 60 componenti dell'equipaggio si tratta di una nave da crociera extra lusso molto particolare a 5 stelle che proviene da Corfu ed è diretta a Dubrovnik in Croazia contestualmente sulla banchina carbonifera nel porto interno ha ormeggiato la Seaburn & Core della Seaburn Cruise Line con a bordo 567 passeggeri e 421 componenti dell'equipaggio la nave proviene da Catalon in Grecia e ripartirà come l'altra alla volta di Dubrovnik oggi addirittura dunque due navi da crociera contestualmente nell'apporto interno di Brindisi questa è una delle città che è cresciuta maggiormente sul piano del traffico croceristico anche se c'è la sensazione che si possa fare ancora qualcosa in più dal punto di vista dell'accoglienza il porto interno dunque ancora una volta ha presentato una cartolina da altri tempi i passeggeri delle due imbarcazioni hanno visitato in ogni caso diverse località della provincia sfruttando soprattutto i servizi messi a disposizione dai tour operator del territorio la fondo dell'opposizione comunale dal PD di Brindisi dicono senza eventi estivi l'amministrazione priva i commercianti e i cittadini di un'occasione di crescita ascoltiamo Brindisi vive un periodo di totale anonimato ossia a livello politico con la crisi di giunta della quale ancora non si capisce la fine ed anche dal punto di vista sociale e culturale non esiste ad esempio testimonianza di un cartellone estivo come denuncia il Partito Democratico attraverso il segretario cittadino Francesco Cannalira non si è fatto nulla credo che qualcuno voglia imputare questo alla crisi politica noi non lo facciamo perché la programmazione va fatta per tempo e quindi crediamo che sia stata proprio una cattiva gestione politica amministrativa dell'ultimo anno dell'amministrazione Marchionna che poi è sfociata con la crisi politica dovuto al cambio ingiustificato di tutti gli assessori per il segretario cittadino del PD la comunità Brindisina sembra essere anestetizzata quasi rassegnata un elemento sul quale riflettere in quest'ultimo anno ho visto invece una indignazione silente e come dicevi è una rassegnazione nessuno parla nessuno critica nessuno protesta e questa cosa dà anche la misura di quello che può fare poi un'amministrazione non sentendo il pungolo della pubblica opinione pensa di fare bene e in effetti il disastro è sotto gli occhi di tutti è tutto anche per Brindisina adesso il nostro telegiornale di Lecce ci rivediamo dopo una breve pausa con la borsa in primo piano un arresto avvenuto a Racale quelle dosi erano per gli invitati al mio compleanno queste le dichiarazioni che sarebbero state rese ai carabinieri ascoltiamo chiediamo pubblicamente scusa per l'increscioso fatto accaduto a Gallipoli prendiamo le distanze dal collega che ha fatto tale gesto non siamo assolutamente d'accordo su episodi del genere che danneggiano l'immagine dei balneari del comune di Gallipoli e di tutto il territorio salentino e pugliese simili episodi non devono mai più accadere a distanza di alcune ore con film prese dei maniali Italia le associazioni di categoria dei balneari e i titolari degli stabilimenti Gallipolini condannano e prendono le distanze dall'episodio che si è verificato sulla spiaggia del litorale della città bella dove una signora che era in compagnia della sua bimba si è visto bloccare l'ingresso ad un lido perché aveva con sé la merenda per la piccola che soffre di celiachia dopo una breve discussione con i gestori dello stabilimento la signora e la figlia hanno fatto ingresso in spiaggia con il cibo non nascondendo amarezza in seguito all'episodio considerato increscioso anche per i balneari il comportamento del titolare del lido sottolineano da confi imprese dei maniali Italia si pone in contrasto tra l'altro con la normativa di settore secondo il vademecum dei diritti in spiaggia stilato da Udicon inoltre non si può essere obbligati a consumare cibi e bevande dello stabilimento ed è vietato il divieto di introdurre alimenti dall'esterno tra l'altro sono anche vietati da ordinanza della Capitaneria di Porto come gestori noi abbiamo a disposizione mettiamo a disposizione dei nostri clienti sempre all'occorrenza anche i nostri frighi per mettere alimenti per bambini per celiaci e medicinali in genere quindi prendiamo assolutamente le distanze dall'accaduto l'invito è a essere accoglienti il più possibile e accogliere i nostri clienti per farli sentire come se fossero a casa propria a Otranto invece è stato sanzionato il legale rappresentante di una società armatrice di barche ascoltiamo perché durante lo scorso fine settimana i finanzieri della sezione operativa navale di Otranto hanno effettuato un controllo lungo il litorale salentino sanzionando il legale rappresentante di una società armatrice di barche durante l'attività di controllo in mare i militari hanno fermato un'imbarcazione di 22 metri per alcune verifiche scoprendo che era impiegata abusivamente nell'attività di noleggio con conducente il caso ha assunto particolare rilevanza perché l'aspetto del noleggio non è emerso immediatamente i finanzieri hanno inizialmente bloccato lo yacht in prossimità di Otranto notando alcune violazioni tra cui l'utilizzo dell'imbarcazione comunità da diporto nonostante appartenesse a una società dopo aver compilato i primi verbali la barca ha ripreso la navigazione ma i finanzieri hanno continuato a sorvegliarla discretamente scoprendo successivamente che aveva fatto scalo a Santa Maria di Leuca e aveva imbarcato una quindicina di turisti a questo punto la situazione si è aggravata e i finanzieri hanno effettuato un secondo fermo contestando ulteriori violazioni ma non è tutto i finanzieri hanno anche scoperto che lo skipper dell'imbarcazione era stato assunto in nero le irregolarità riscontrate hanno comportato diverse sanzioni amministrative ma gli accertamenti non sono ancora conclusi attualmente la compagnia della guardia di finanza di Gallipoli sta approfondendo gli aspetti fiscali legati alla società proprietaria dell'imbarcazione le sanzioni attualmente ammontano a 3.900 euro per il lavoro nero in quanto è obbligatorio assumere lo skipper per almeno 6 mesi altre 4.000 euro sono state combinate per il noleggio abusivo mentre 400 euro riguardano l'uso improprio dell'imbarcazione e 236 euro sono relative alle concessioni governative non pagate ma non è tutto è in corso anche la verifica del pagamento del canone RAI speciale un annesto dei carabinieri a Racale per droga un uomo di 52 anni è finito in carcere lo scorso 18 luglio del giorno del suo compleanno si è difeso affermando che ai 22 grammi di cocaina suddivisi in 25 dosi trovati in suo possesso erano destinati agli invitati alla festa del suo compleanno tuttavia durante l'interrogatorio dinanzi al giudice del tribunale di Lecce Marcello Rizzo l'uomo ha negato di essere un pusher e ha dichiarato di lavorare in nero presso il bar ad Andrano in cui è stato arrestato nonostante ciò non sono stati trovati riscontri alla sua affermazione di dormire all'interno dell'attività commerciale il giudice non ha creduto alla versione dell'indagato ritenendo evidente che il bar fosse utilizzato come punto di spaccio la droga infatti era già suddivisa in dosi e nascosta all'interno di un registratore di cassa non collegato posizionato su una mensola nell'antibagno del personale inoltre l'atteggiamento dell'uomo all'arrivo dei carabinieri quando ha cercato di nascondere del cellofan utilizzato molto probabilmente per confezionare la sostanza ha sollevato ulteriori sospetti anche gli appunti con cifre e nomi sequestrati dai militari non convincono nonostante la difesa a fermi che si riferissero a clienti del bar che erano debitori e non all'attività illecita l'uomo al momento è in custodia cautelare in attesa del processo a Casarano l'opposizione blocca i lavori per i giardini pubblici ingiustificata dicono la rimozione degli alberi ci siamo mossi intanto sentendo il sindaco e chiedendo al sindaco di bloccare immediatamente i lavori per valutare la possibilità che questi alberi vengano eradicati e impiantati in altri luoghi della città mi viene in mente per esempio Piazzetta Bastianuti che è poco distante da qui lavori momentaneamente sospesi quelli iniziati alcuni giorni fa presso i giardini William Ingrosso a Casarano a bloccare l'intervento di riqualificazione dello spazio pubblico è stato il primo cittadino Ottavio Denuzzo su sollecitazione del circolo cittadino del Partito Democratico il quale aveva denunciato alcune anomalie durante l'esecuzione dei lavori gli alberi presenti nel giardino infatti sono stati espiantati dagli operai dell'azienda incaricata senza alcuna possibilità per quelli sani di essere piantumati altrove noi pensavamo che sbagliando che questa valutazione fosse stata fatta a monte anche perché il comune di Casarano è dotato di uno sportello agricolo con un agronomo incaricato dal comune quindi immaginavamo che ci fosse stata una valutazione in questo senso a monte purtroppo non è stato così il sindaco mi ha dato subito la rassicurazione che si sarebbe sentito con la progettista e so che l'ha fatto tanto è vero che oggi da ieri i lavori sono fermi probabilmente in attesa di capire se gli alberi gli ulteriori alberi diciamo che dovrebbero essere abbattuti possano essere recuperati e impiantati altrove in un momento come questo in cui è centrale il tema del verde pubblico della desertificazione arborea nelle città i dem casaranesi chiedono maggiore cura e attenzione all'amministrazione comunale nella gestione delle aree verdi e delle politiche ambientali segnalo anche che numerosi alberi di quercia presenti a Casarano da decenni stanno seccando probabilmente per effetto dell'axilella e anche lì sarebbe necessario intervenire tempestivamente proprio per salvaguardare gli alberi rimasti a Casarano che devo dire da questo punto di vista scarseggia e per il castello Carlo V di Lecce la sindaca Polibortone chiede indietro la gestione Il sindaco di Lecce Adriana Polibortone ha annunciato l'intenzione dell'amministrazione comunale di riprendere la gestione del complesso monumentale del castello di Carlo V correggendo così uno dei numerosi errori causati dalla riforma Franceschini questa riforma ha trasferito la competenza dei monumenti più importanti della città dagli uffici del ministero a Bari senza che l'amministrazione comunale precedente si interessasse della questione creando una situazione paradossale che potrebbe causare ritardi e inefficienze non solo il castello di Carlo V a Lecce ma anche l'anfiteatro romano e il teatro romano sono stati coinvolti da questa decisione è auspicabile che questa situazione porti a un dibattito parlamentare per correggere gli errori della riforma Franceschini per quanto riguarda la provincia di Lecce è paradossale che il castello di Lecce e il castello di Copertino siano sotto la direzione di Bari un organo statale questa situazione richiede un dibattito parlamentare che possa correggere almeno in parte gli errori di una riforma che ha ricevuto poco opposizione dalla scorsa registratura e che è sfuggita all'attenzione dell'opinione pubblica speriamo che da Lecce partano iniziative volte non solo a risolvere la situazione del castello di Lecce ma anche a promuovere un dibattito parlamentare sulla riforma Franceschini e a modificarla in modo sostanziale Nella giornata mondiale per la prevenzione degli annegamenti in Salento un'esercitazione con la Guardia Costiera corretta 5, 6 e 7 da Guardia Costiera a Torre San Giovanni per esercitazione ripeto per esercitazione abbiamo ricevuto simulazione dell'avvicinamento di una tromba d'aria in prossimità del vostro spettuale dunque sempre per esercitazione attiviamo la procedura di emergenza per il caso una simulazione che ha riguardato la risposta ad un ipotetico evento meteorologico improvviso un tornado una tromba marina abbattutosi sul litorale è così che il comune di Ugento in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Gallipoli il servizio 118 dell'Asle di Lecce e la società di salvamento Sea Rescue nella mattinata di giovedì 25 luglio ha aderito alla giornata mondiale della prevenzione dell'annegamento e oggi con questa giornata stiamo aderendo a questa giornata che è stata indetta dalla FE questa ONG olandese e ha come scopo proprio la prevenzione dell'annegamento in quanto la sicurezza in mare è un tema fondamentale sia per i nostri cittadini ma anche per i vacanzieri perché la risorsa mare è un bene preziosissimo che comunque ci concediamo in un momento di o anche di pausa di relax più o meno lungo ma comunque come dicevano anche i nostri nonni col mare non si scherza la simulazione di soccorso che ha permesso di testare la prontezza operativa e la capacità di risposta alle situazioni di emergenza sia del piano collettivo di salvataggio che del personale degli equipaggi dei mezzi navali della Guardia Costiera è stata preceduta da un dibattito a cui hanno preso parte il sindaco di Ugento Salvatore Chiga il capitano di fregata Francesco Martina il comandante dell'ufficio locale marittimo di Torre San Giovanni Gianluca Spada il direttore del servizio del 118 leccese Nicola D'Angelo ed altre autorità civili e militari uno dei compiti principali della Guardia Costiera è proprio quello della salvaguardia della vita umana in mare e queste giornate sono importanti perché oltre a rispondere prontamente alle situazioni di emergenza è anche importante quella che è l'attività di prevenzione e di sensibilizzazione qui abbiamo un piano collettivo di salvataggio che è stato autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Gallipoli è attivo ed è molto importante perché oltre a svolgere questa attività di intervento di pronto intervento nelle situazioni di emergenza fa aumentare anche la percezione di sicurezza in mare per tutti i bagnanti quindi i turisti che usufruiscono delle nostre coste e dei nostri bellissimi mari Pala Summer Lecce la prima serata ha superato le più rose aspettative vediamo com'è andata un'intera area giochi per i più piccoli tanto food tra braceria pizzeria friggitoria creperia e poi ancora esposizioni artistiche tanto intrattenimento per i più grandi che hanno potuto ballare scatenarsi con Bar Italia la prima serata del Pala Summer Lecce 2024 è stata un successo enorme pronto a essere replicato dalla seconda che vedrà sul palco i musicisti e i cantanti della notte della Taranta non ce l'aspettavamo però comunque si vede ed è un mercoledì quindi comunque diciamo che il Pala Summer colpisce nel segno ed è una manifestazione che a Lecce piace molto è una manifestazione attesa e molto visitata quindi insomma quello che posso dire è a tutti quanti di venire a vedere le novità che ci sono perché è pieno di novità e abbiamo anche un ricco cartellone di artistico che sicuramente è un po' per tutte le età a parte tutti gli spettacoli che facciamo per i piccoli che sono dalle inizio dalle 19 fino alle 22 ma poi ogni serata abbiamo ovviamente dei big questa sera abbiamo una serata del Festival Bar Italia un po' rievocativa degli anni 90 80-90 da domani si inizia con una tappa della notte della Taranta poi abbiamo Donatella Rettore venerdì 26 il 27 abbiamo Lecce Festival che è una bellissima accozzaglia dico io ma è una bellissima composizione di artisti salentini tutti insieme Cavabonga Big Mama Kenziei ci sono Cesco Puccia ci sono i bambini latini e altri e poi finiamo con il solito spettacolo dei malfattori la serata di domenica che è un cult oramai questo era il nostro ultimo servizio grazie per la vostra attenzione e un buon proseguimento di giornata arrivederci la nuova app di Antenna Sud più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on demand da qualsiasi dispositivo